Martano è stata considerata la piccola capitale della Grecia Salentina, dove il grico, l'antico dialetto greco salentino, è ancora conosciuto e parlato dagli ellenofoni della cittadina. Il centro storico di Martano, nel suo nucleo più antico, veniva un tempo definito la Terra e ricorda la cosiddetta Cora Bizantina, il borgo abitato di impianto medievale. L'elemento architettonico dominante nel borgo antico è la casa a corte, simbolo indiscusso della civiltà contadina di un tempo ed espressione di una comunità industriosa. Esse rappresentano un patrimonio architettonico di inestimabile valore, dove ancora oggi si respira il sapore antico del salento contadino. Un tempo l'ingresso al paese era garantito da due porte ormai andate distrutte e localizzate sull'attuale via Roma, la strada principale del borgo antico. Fino alla seconda metà del Cinquecento, Martano era completamente circondata da possenti mura, come è possibile intuire ammirando due delle sette torri di difesa ancora rimaste in piedi, le quali avevano lo scopo di potenziare la stessa cinta muraria. L'architettura di Martano presenta anche importanti testimonianze di palazzi e palazzetti dotati di elementi architettonici e decorativi di pregio, come balconi e finestre finamente adornate, stemmi di antichi casati, portali e colonne angolari. Gli spazi pubblici di Martano sono un luogo di incontro e di aggregazione sociale della cittadinanza. Piccoli paesaggi urbani ben curati, decorati dal verde e da preziose opere d'arte. Il parco giochi è il polmone verde dedicato alle famiglie e ai più piccoli, in cui è possibile godere della tranquillità del luogo e dell'atmosfera circostante. La villa comunale, situata nel cuore del centro di Martano, rappresenta il punto di ritrovo principale della comunità. A donare bellezza è la fontana del maestro leccese Fernando de Filippo, opera che celebra l'albero dell'olivo. Altre suggestioni concettuali si riscontrano nel Giardino della Conoscenza, pezzo realizzato da Luigi Scardino, sul disegno dell'artista francese Nicole Gravier. Notevole è il monumento dell'acqua, scolpito da Ercole Pignatelli, sintesi delle espressioni decorative barocche. Il celebre Armando Marrocco ha realizzato invece la Fontana degli Angeli, riformulando concettualmente il design degli antichi contenitori di olio, chiamati appunto Angeli. Infine, ma non meno importante, la Fontana di Piazza Assunta di Martano è un'opera di pregevole architettura ed interessante impatto estetico. Gli spazi pubblici sono utilizzati spesso come location di eventi culturali e di intrattenimento e rappresentano un fiore all'occhiello della sensibilità martanese verso la cultura e la promozione dell'aggregazione sociale multigenerazionale. Il vasto palazzo ducale dei Gaetani di Castelmola, sito in via Calimera, venne costruito da un palazzo tra il 1887 e il 1890, ma rimase incompiuto. Per lungo tempo fu la dimora del colto duca Salvatore Gaetani di Castelmola. Nel 1999, tuttavia, il figlio Gelasio lo cedette al comune di Martano, divenendo quindi un bene patrimoniale pubblico. Il palazzo ducale è una sintesi di neoclassicismo del tardo ottocento, dal gusto eclettico e affina ai grandi palazzi progettati per i centri urbani dell'epoca. Le sale nobili superiori conservano ancora la testimonianza del loro passato, essendo finemente decorate con pregevoli mosaici. A presto. 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 Nella piazzetta Matteotti, caratterizzata dal basolato pavimentale con pietra calcarea dura, è presente quello che un tempo era il bellissimo convento dei Frati Domenicani, oggi sede del municipio. L'intero complesso conventuale venne costruito nella prima metà del 1600 e subì rimaneggiamenti piuttosto importanti nel corso del tempo. Il piano superiore venne completamente riedificato per ospitare l'ampia aula consigliare. Ciò che ancora conserva la sua originaria bellezza è una parte del chiostro. Esso ha una pianta quadrangolare e delle solenni colonne che immettono nell'ampio scalone. La chiesa del Rosario, attigua al convento, risale al 1652. L'interno è a tre navate con volte a botte ribassate. Qui è possibile ammirare tre altari per lato, tutti di pregevole fattura e impreziositi con dipinti e statue. L'altare maggiore è in marmo policromo ed è sovrastato dalla tela della pietà, realizzata da Alessandro Fracanzano, figlio del più celebre pittore Cesare Fracanzano. Il monastero di Santa Maria della Consolazione, situato sulla provinciale per Borgagne, risale al 1686. Dopo un breve periodo di guida ad opera dei frati francescani, nel 1926 fu affidato ai cistercensi di Casamari, un ordine fondato il 21 marzo 1098, che si rifaceva pienamente all'ideale di vita proposto da San Benedetto, fondato sull'accoglienza e l'ospitalità. I padri introdussero le straordinarie risorse della loro tradizione monastica, come la preparazione di miele, olio, infusi ed elisir per lenire i vari malanni. La chiesa Santa Maria della Consolazione si presenta all'esterno molto semplice e austera. L'interno della chiesa è in stile barocco ed è diviso in tre navate. Si presenta a pianta rettangolare coperta con volte a crociera. Interessante è la pavimentazione di metà dell'Ottocento, realizzata in ceramica porosa di tipo stannifero, meglio conosciuta come maionica. il monastero è dotato di una ricca biblioteca, probabilmente originata dall'insediamento degli Alcantarini. Le opere presenti sono di varia natura, in prevalenza di una biblioteca teologiche, filosofiche, giuridiche, storiche e letterarie, con particolare riferimento a quelle linguistiche di origine salentina, per un totale di circa 40.000 volumi. all'interno del monastero dei Cistercensi è presente il museo Pinacoteca Giulio Pagliano, intitolato all'insigne pittore Gallipolino, i cui lavori sono oggi esposti al suo interno. qui si possono ammirare le collezioni di Michele Paone, una consistente raccolta di monete del Regno di Napoli ed una collezione di medaglie con immagini sacre. una sezione dedicata a numerosi oggetti di uso quotidiano e preziosi manufatti, tra cui bronzi, statue di cartapesta e ventali. E poi ancora ceramiche italiane, porcellane austrieche e tedesche e una magnifica raccolta di cristalli di boemia finemente decorati in oro. La chiesa matrice di Martano è un antico edificio di rito greco, ricostruito nel 1596, secondo quanto riportato sul portale d'ingresso. La sua barocca bellezza è testimonianza della grande perizia di maestri nerretini, valenti scalpellini locali dediti alla lavorazione della pietra leccese. L'interno della chiesa, a croce latina con tre navate, è molto raffinato, con un soffitto ligneo del Settecento. Qui si può ammirare la complessità e la bellezza del barocco del XVII e XVIII secolo e opere pittoriche di notevole pregio artistico. La chiesa dell'Immacolata, conosciuta anche come chiesa della congrega, è una costruzione barocca della seconda metà del XVII secolo. L'interno è a navata unica e rettangolare, con copertura avvolta, decorata con stucchi e pitture a motivi floreali di notevole impatto visivo. L'interno è a navata unica e rettangolare, con copertura avvolta, decorata con stucchi e pitture a motivi floreali di notevole impatto visivo. Queste raffigurazioni di rara bellezza confluiscono nel sontuoso altare centrale, straripante di disegni barocchi. Lungo la Traiana Calabra, o via Vecchia Lecce, vi è una piccola chiesa rurale dedicata alla Madonna Assunta, realizzata nel 1727 dai maestri Margoleo. Il prospetto è caratterizzato da un alto frontone finemente scolpito e sormontato dalla statua della Vergine in pietra leccese. Di pregevole fattura architettonica e stilistica è il cimitero monumentale di Martano. Al suo interno pregevoli cappelle private, risalenti tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo, ingentiliscono il luogo di eterno riposo. Di assoluto rilievo architettonico è la Cappella della Madonna degli Angeli, risalente al 1721. Lungo la Traiana Calabra Traiana Calabra era prevalentemente di tipo agricolo, l'esistenza e l'utilizzo di frantoi ipogei nella vita sociale e lavorativa di Martano è stata determinante per il suo sviluppo nel corso degli anni. In via Degasperi vi è l'antico trappeto ipogeo San Blasi, che è stato restaurato e reso fruibile grazie ad un sofisticato impianto di illuminazione. I frantoi ipogei, chiamati anche trappeti ipogei, venivano scavati sotto il banco roccioso, oltre che per ragione di economicità, soprattutto per meglio sfruttare la maggiore costanza termica e proteggere così il prodotto dagli eccessivi sbalzi di temperatura. La produzione dell'olio è ancora oggi elemento essenziale dell'economia locale, essendo Martano inserita nel circuito delle città dell'olio, come dimostra anche la Sagra della Vulia Cazzata, che si svolge in ottobre e che rappresenta un'importante manifestazione culinaria e commerciale legata alla produzione olivicola. Intrisa di leggende La produzione di leggende e circondata da un alone di mistero è la specchia dei Mori, anche conosciuta come la specchia del demonio. E' costituita da massi di differenti dimensioni posizionati uno sopra l'altro a formare un cumulo, la cui funzione originaria era, probabilmente, di avvistamento e di difesa del territorio. Curiosa è la leggenda popolare legata alla sua realizzazione. Si racconta che la specchia fosse stata costruita da imponenti Mori, desiderosi di raggiungere l'Olimpo e di vedere gli dèi. Le divinità, però, non videro di buon occhio questo loro desiderio e, come per la leggendaria torre di Babele, distrussero questa rudimentale via di comunicazione tra la terra e il cielo, seppellendovi sotto di essa i costruttori blasfemi. Espressione di un antichissimo passato, il Menhir del Teofilo, situato sull'omonima via, è il più alto megalite presente in terra salentina, con i suoi 4,70 metri di altezza. Secondo le testimonianze giunte sino ai giorni nostri, il Menhir del Teofilo, o Menhir Santotaro, era elemento di antichi rituali religiosi in voga presso le genti Iapige nel IX e X secolo a.C., all'inizio dell'età del Ferro. Il sito di Apigliano, i cui resti più significativi si estendono per circa 2 ettari, è un villaggio medievale di terra d'Otranto abbandonato tra il XIV e il XVI secolo. Al suo interno vi erano originariamente quattro edifici di culto, ma oggi la chiesa di San Lorenzo è l'unico rimasto inelevato, dopo l'abbandono del villaggio medievale. La chiesa risale all'età medievale e conserva i resti del pavimento originario, costituito in lastre di pietra calcarea di forma irregolare e levigata in superficie. Essa venne rasa al suolo nel 1582 per essere poi ricostruita, come si evince da un'iscrizione in greco posta in facciata sull'architrave dell'ingresso. La presenza di 60 tombe e 24 fosse ossari, presenti nell'area adiacente a quella della chiesa, lascia presagire di trovarsi di fronte ad un vero e proprio cimitero. Secondo alcune pratiche medievali, gli infanti trovavano sepoltura al ridosso del tetto della chiesa, in modo tale che l'acqua che scendeva dal tetto, benedetta dopo aver toccato l'edificio sacro, avrebbe garantito alle sepolture un'ulteriore benedizione. Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti!